Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi quello che era il rapporto di Padre Pio con coloro che volevano avere un certo rapporto spirituale, di direzione spirituale, questo stabilire, questo contatto con Padre Pio quasi costante delle anime che si rivolgevano a lui anche da lontano con delle domande per avere così delle direttive proprio da Padre Pio, da questo luogo. Quando Eleonora Foresti ebbe l'idea, la sua prima idea di fondare una congregazione di suore che poi creò e costituì, venne qui a San Giovanni Rotondo, siamo nel 1919, per sottoposti così alla direzione di Padre Pio da Pietrelcina e durante la sua permanenza sul Gargano ne approfittò per confessarsi da Padre Pio e per avere con lui lunghi colloqui di direzione spirituale, così abituarsi a tanta abbondanza, così come lei lo scrive nelle sue memorie, abbondanza di luce e di conforto. Ma prima di ripartire si rivolse a Nina Campanile che era una delle figlie spirituali un po' più vicine a Padre Pio, chiedendole di avere un rapporto stretto epistolare dove lei faceva determinate domande a Padre Pio e poi Padre Pio attraverso Nina Campanile dava delle risposte. dopo questo rapporto epistolare a un certo punto Eleonora spiega via lettera a Nina Campanile che per lei non sono più sufficienti quelle risposte via lettera da Padre Pio e lo deve far presente a Padre Pio. Nina lo fece presente a Padre Pio e Padre Pio disse va bene, allora vuol dire che utilizzeremo il telefono senza fili, pensate un po', Padre Pio fece questa battuta. Nelle lettere successive Eleonora scrisse, puoi comunicare a Padre Pio che il telefono senza fili funziona benissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.